Se è sbilanciato o no L'hai fatta partire la flycam? No Ne? L'hai fatta partire Cosa? Sì, ho dato il tumore a sinistra Ma non è preso Senza motore? Senza motore? Senza motore? Uhum E avrai un pochettino più il peso dietro Il baricentro dov'è? Se è davanti o dietro le ali? Così penso un po' di peso indietro Ah, eccolo lì, non lo vedevo più Sì, non lo vedevo più Non lo vedevo più C'è anche un po' di arietta. Mezzo motore. Fai cambiarsi da una parte e dai quasi messi. Con l'apertura l'aria così comunque è poco. Aspetta che controllo. Ok, continua bene. Lì, lì sai tanto. Sì. Mi sono perso. Non farmelo guardare dal vivo, sennò lo perdo con la telecamera. Andiamo. Ma così stavi dando gas o stavi solo scendendo? No, tutto sul motore. Sì. 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 80 e 270 motore. Buono. Buono buono. Ragino con la canotta. Grazie a tutti